ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire da giovedì 4 gennaio a giovedì 11 gennaio 2024 utilizzeremo tre mazzi di carta e faremo una lettura unificata chiederò agli angeli all'arcangelo michele di far sì che possano arrivare i messaggi più giusti per il vostro massimo bene e il massimo bene supremo quindi cercate di pre di cogliere quelli che sono i messaggi che stanno parlando col vostro sacro cuore iniziamo con una preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste coscienza mica elica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azione di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più pure ed incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione fisica psichica in tutti i livelli del mio essere per me e per tutte le persone che con tanto amore mi seguono grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie coscienza mica elica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok vediamo la prima carta ok in questa situazione è utile pregare vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli e l'arcangelo michele credi e fidati ok ecco questa uscita è uscita da sola amore eterno vediamo un po' utilizzo le carte delle fate sempre con la frequenza angelica dell'arcangelo michele desidera assaggiamente questo diciamo che una lettura credo che riguardi molto la manifestazione sono tante le freghiere per il nuovo anno da parte di tutti noi di tutti voi e quindi quindi giustamente abbondanza anime infinite che belle queste carte vediamo un po' la terza carta eccola qui bambino imperiore molto interessante ok vediamo un po' le carte degli unicorni cosa ci vogliono dire attraverso la frequenza micaelica vediamo eccola eccola qui vite precedenti vite precedenti immaginazione scusate ne sono cadute troppe però si è girata una speranza ok vediamo un po' perché comunque è molto interessante fa a che vedere sia con l'abbondanza ma anche con l'amore con la relazione d'amore quindi iniziamo la nostra lettura angelica allora assolutamente hai pregato tanto l'arcangelo michele i tuoi angeli gesù maria i tuoi diciamo i tuoi maestri le persone che hai in cielo hai chiesto aiuto e sostegno e devi continuare a farlo l'arcangelo michele è qui per sostenerti l'arcangelo michele è qui per guidarti per incoraggiarti ad andare avanti assolutamente non mollare adesso sei a metà del percorso e riuscirai a realizzare i tuoi progetti personali e dell'anima assolutamente nella nell'energia del momento presente la carta del credi e fidati quindi assolutamente sta andando tutto come come deve i tuoi desideri si stanno manifestando o si sono già in parte manifestati queste persone sono giuste per te questa relazione d'amore questa persona a cui tieni tanto fa parte della tua anima e il percorso della tua anima è un'anima affine al tuo cuore potrebbe essere la tua anima gemella assolutamente se senti nel tuo cuore una somiglianza una risonanza una familiarità è l'anima che ti sta parlando ascoltala perché l'anima dice sempre la verità però è anche vero che se vuoi manifestare una relazione d'amore se vuoi manifestare abbondanza se vuoi manifestare i tuoi progetti quando si tratta di altre persone coinvolte ci vuole il rispetto del libero arbitro dell'altra persona quindi prega sempre chiedendo il permesso all'anima se superiore di tutte le persone coinvolte infatti qua gli angeli le fate ti stanno invitando a pregare in maniera saggia sprecare pregare in maniera saggia anche perché c'è abbondanza per te assolutamente c'è tanta abbondanza c'è tanta prosperità c'è tanta bellezza ci sono relazioni fiorite relazioni meravigliose c'è un invito naturalmente da parte degli angeli a lavorare sulla tua crescita personale e spirituale quindi il perdono scusate sto cercando di insegnare il condizionatore perché c'è un caldo incredibile ok quindi il l'invito a lavorare su di te a perdonare a perdonarti a lasciare andare il passato nel passato e a guarire il tuo bambino la tua bambina interiore vedete avete bisogno di giocare alla vita avete bisogno di godervi la vita uscite nella natura fate un viaggio fate realizzate quel progetto del cuore che vi dà gioia che state rimandando ormai da troppo tempo ascoltate l'anima perché l'anima vi sta guidando in questa direzione ok per quanto riguarda la persona su cui hai posto una domanda recentemente potrebbe essere una persona a cui tieni un'anima fine al tuo cuore vi siete incontrate e una relazione di vite precedenti questo non è detto che sia una relazione necessariamente karmica ma c'è sempre del karma da guarire quindi ripeto il perdono la guarigione del cuore lasciare andare le ferite dell'anima del tuo passato diciamo che questa familiarità che tu senti è perché quest'anima l'hai già incontrata e quindi l'hai riconosciuta come una una persona molto vicina al tuo cuore gli angeli dicono anche di usare la tua immaginazione per manifestare la realtà che tu desideri datti il permesso di sognare e infinite possibilità alle porte quindi lavora sulla manifestazione dei tuoi sogni dei tuoi progetti ripeto quando si tratta di altre persone assolutamente bisogna chiedere il permesso al sé al sé superiore c'è speranza c'è speranza per questa relazione per questa anche riconciliazione eventualmente per alcuni di voi oppure per la nascita di una vera e propria relazione d'amore quindi questa è un po' una lettura che riguarda appunto la vita di coppia ma riguarda anche anime meravigliose la manifestazione dei vostri progetti e dell'abbondanza semplicemente gli angeli ci stanno invitando a pensare a pregare e a immaginare manifestare i nostri desideri dell'anima allineati al nostro cuore e dobbiamo utilizzare la saggezza e non seguire l'ego e non manipolare non controllare quindi cercare di avere dei desideri puri del cuore dell'anima e se ci sono persone altre persone coinvolte mi raccomando lo ripeto lo ribadisco chiedere il permesso all'anima sé superiore ok nel rispetto del libero arbitrio come l'arcangelo michele fa con noi lui rispetta il nostro libero arbitrio anche quando noi prendiamo delle decisioni diverse da quelle che magari lui vorrebbe per noi no ok anime meravigliose chiediamo all'arcangelo michele attraverso questo libro qual è il messaggio più giusto per noi e per il nostro massimo bene il massimo bene supremo per tutte le persone coinvolte grazie così è goditi ciò che hai raggiunto prima di cercare altrove analizza con più attenzione la tua situazione presente prima di pensare a quella che ti riserva il futuro ok ciò che hai raggiunto fino ad oggi può essere il migliore capitale disponibile su cui contare per i progetti futuri quindi assolutamente un invito al radicamento al vivere il presente al godersi anche la vita nel presente uscire nella natura connettersi con con fare cose giocose gli angeli ci hanno invitato a risvegliare la nostra bambina il nostro bambino interiore e vedrete che poi con un'energia potenziata riusciremo e riuscirete a manifestare grandi cose anche per il futuro bene anime meravigliose per questa settimana la mia la nostra lettura si è conclusa ci sarà la fine delle feste è un nuovo inizio per tutti noi quindi si rinizia un nuovo ciclo quindi lavoro spirituale preghiera meditazione alimentazione sana gioia gratitudine vivere nel presente godersi il presente nuove relazioni per molti di voi anche un nuovo amore insomma ci aspettano solo cose meravigliose sintonizzatevi in frequenze alte lasciate andare tg tv e cose che abbassano le frequenze anche diciamo che oggi anche nei social ci sono molte informazioni che possono deviarci però ci sono anche informazioni molto carine e molto spirituali quindi seguite le alte frequenze e scrollate tutto ciò che non serve il vostro massimo bene vi auguro una settimana fantastica volevo ricordarvi che faccio alcune poche diciamo sessioni private però c'è ancora spazio per questo mese tra letture angeliche sessioni di riequilibrio energetico e sessioni di logo sealing per manifestare per liberarvi dai blocchi dalle paure dalle credenze limitanti per fare un lavoro di riallineamento ok se invece volete fare dei percorsi più completi quindi dei veri e propri corsi il prossimo corso online su zoom quindi è dal vivo però online si terrà il 26 di gennaio va bene sarà un corso sulle connessioni angeliche per imparare a connettervi con i vostri angeli con tutti gli insegnamenti dell'arcangelo michele se invece vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce la nuova classe partirà il 26 febbraio 2024 online ok il percorso di nove settimane che è strepitoso naturalmente se vuoi fare un'esperienza dal vivo in presenza il seminario per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo michele partirà esattamente dal 23 al 26 marzo 2024 tutte le informazioni sono qui sotto ci sono tutti i link esplicate ci sono le locandine ci sono i video informativi poi se volete ricevere maggiori informazioni non esitate a contattarmi per parlare con me e farmi tutte le domande che volete ok io naturalmente volevo anche informarvi che ci sarà anche il seminario dal vivo in presenza di guarigione con le nuove frequenze di luce a roma esattamente scusate ma io con le date dal 25 al 28 maggio 2024 vi aspetto numerosi io vi abbraccio vi saluto e a presto un bacione ciao ciao